Buongiorno a tutti, ben arrivati, ben ritrovati. Io sono Elisabetta Sasselli, lei è Francesca Mangialardo, lavoriamo entrambi a Green Team del gruppo Far Networks e facciamo parte del Modern Work Strategies Team che si occupa, fra le altre cose, diciamo di progettare soluzioni basate su Micro365 a portata umana. E non a caso oggi vi racconteremo Micro365 da un punto di vista diverso, cioè dal punto di vista di Telma e di Louise. E lo facciamo senza agenda, se non questa slide degli sponsor che ringraziamo. E partiamo da questa tavola periodica che rappresenta l'ecosistema di Micro365. Una tavola periodica che vuole essere provocazione e sfida. La provocazione è questa, per introdurre un po' poi il tema che seguiremo. Se siamo certi che questi elementi da soli siano in grado di migliorare l'esperienza lavorativa delle persone e della nostra azienda, se siamo certi che la sola configurazione tecnica di questi elementi sia in grado di migliorare l'efficienza, la produttività, la soddisfazione delle persone che li utilizzeranno. E da qui la sfida, cioè vi invitiamo insieme a noi ad immaginare quali e quante esperienze possiamo progettare e realizzare considerando questi elementi da un punto di vista olistico. Quindi andare oltre a questi elementi considerati singolarmente e solo da un punto di vista tecnico, rimettendo al centro le persone. E anche quando eseguiamo un lavoro da tecnici di configurazione, non perdere mai questo punto di vista. Le persone per cui questi elementi devono produrre del valore. Volendo fare una metafora, questi elementi potrebbero essere dei mattoncini. Nei mattoncini che sono in grado di costruire degli edifici, delle abitazioni e delle case. E le persone vogliono le case. E quando dentro a una casa stanno bene, confortevoli, a proprio agio, non vedono più i mattoncini. L'altra cosa importante è che persone diverse hanno bisogno di case diverse. Gruppi di persone diverse all'interno della nostra azienda hanno esigenze diverse. Da qui l'importanza del punto di vista di Thelma e di Louise. Iniziamo quindi. Passo la parola a quella che avete capito. Essere Thelma. Ciao, io sono Thelma. Sono una manager nell'azienda Rebel Line. Che per chi non la conoscesse è un'azienda che produce attrezzature e articoli sportivi. È una multinazionale, però io lavoro nella sede centrale che si trova a Bologna. E vi dicevo, sono una manager del team delle operations e sotto la mia responsabilità ho tutti i negozi dell'Emilia Romagna. E a breve avremo anche delle nuove aperture in Toscana, di cui sarò ancora responsabile. E sono una persona sorridente, solare, ma anche tenace. Quindi sono una persona che comunque è abbastanza rigorosa anche come manager in questo ruolo. E sono anche un po' smemorata. È una cosa che non in molti sanno, soprattutto al lavoro, perché ho i miei trucchetti, ho le mie tecniche. E sono molto attiva, faccio tante cose. Sono sportiva, vado in palestra, guardo le serie tv. E mi piace anche fare dei viaggi da sola. Su tutte le altre mie interessi e caratteristiche sorvolo, perché quello che mi piacerebbe raccontarvi oggi è qualcosa di più rispetto a una mia giornata di lavoro tipica, che potrebbe essere molto simile a quelle di tanti altri di voi. Perché vado al lavoro, controllo le email e le comunicazioni, faccio molti meeting durante la mia giornata, ma produco anche della documentazione, dei report. E poi mi dedico anche alle persone, quindi alla nostra community aziendale, e mi ritaglio sempre del tempo anche dedicato alla formazione. E come potete vedere, qua ci sono diversi dei mattoncini di cui ci parlava Elisabetta, che sono tanti, però vi assicuro che nella mia esperienza, questo per me non è un problema. Anzi, la mia giornata fila in modo molto fluido, non me ne rendo quasi conto. E ve lo assicuro, ma in realtà ve lo faccio anche vedere. Vi porto con me nella mia giornata. Allora, la mia giornata inizia al mattino, quando devo recarmi in ufficio. Prendo il treno e per ottimizzare i tempi, quello che faccio è consultare subito le email, le comunicazioni, in modo tale che una volta arrivata so già bene o male che cosa devo fare, quali sono le mie priorità. Quindi per esempio qui, vedete, ho ricevuto un email da parte di Maria che mi chiede disponibilità per fare un meeting. Non riesco a risponderle subito perché devo coordinarmi con il mio team, coordinare anche le agende, e quindi quello che faccio è che me la segno, me la flaggo e poi vi farò vedere dove finisce quest'email flaggata. Un'altra cosa che faccio spesso mentre guardo le email e sono qua in Outlook, è che guardo questo pannello di Viva Insights. Perché mi aiuta, sempre perché sono un po' smemorata, per esempio a catch up on documents. Quindi se ho degli allegati in delle email e non li ho aperti, me lo suggerisce. Oppure quando so che devo andare out of office, mi aiuta a pianificare una serie di azioni, controllare il calendario, impostare l'out of office. In realtà oggi l'avevo aperto perché vorrei prepararmi meglio ai prossimi meeting che devo fare. Quindi ho una visualizzazione di quelli che ho domani e nei prossimi giorni, con un highlight, se l'ho accettato, se ho dei conflitti, ed eventualmente, questo lo faccio subito, ritagliarmi anche del tempo di preparazione. Vedete, questo meeting è molto breve, voglio essere più efficace possibile, quindi mi preparerò coerentemente e appunto mi posso prenotare già nel calendario uno slot in cui mi concentrerò. Nel frattempo ho visto anche che mi è arrivato un messaggio in chat, in realtà più di uno, ma vado subito a sentire questo perché la Silvia è la mia manager. Quindi vediamo cosa mi chiede. Ciao Thelma, puoi preparare la presentazione sull'apertura dei nuovi negozi in Toscana? Poi la guardiamo insieme la prossima settimana. Grazie mille. Ok, allora questa è una cosa che sicuramente devo fare nella giornata di oggi. Non riesco a completare l'attività in questo momento che sono ancora in treno, quindi mi creo un task e lo chiamerò report negozi Toscana e mi segno anche che è una priorità alta perché me l'ha chiesto la mia manager, secondo me le serve il prima possibile e appunto do una scadenza per oggi. E a questo punto vi faccio vedere anche come organizzo queste attività della mia giornata e lo faccio da questa lista, chiudo il pannello, lo faccio da questa lista dove trovo tutte quelle che appunto mi sono segnata, a partire proprio dal report, che vedete anche le caratteristiche, insomma le informazioni aggiuntive che ho segnato. Tra i miei task io spesso segno anche delle cose private, per esempio devo ricordarmi oggi di andare a ritirare un pacco entro le 18 e quindi quando sono in ufficio mi verrà fuori un pop-up e so che non devo fare tardi, sennò questo pacco non viene ritirato. Prima vi ho detto, ho flegato un'email, vedremo dove me la ritroverò. Me la ritrovo qui, disponibilità per meeting formazione e anche in questo caso posso impostare un reminder e una data di scadenza. Per esempio voglio rispondere oggi. Non solo trovo le attività che mi sono, diciamo, auto-assegnata, ma anche quelle che mi sono state assegnate, perché collaboro con altre persone su altri progetti. E insieme anche a queste, con le mie attività, posso costruire quella che è la mia giornata. Quindi io accedo da questa schermata e vedo quello che devo fare e anche con quale livello di priorità. Fatte queste attività più organizzative, sono ormai arrivate in ufficio. E vado subito a fare il mio primo meeting, che è un meeting con il mio team, in cui dobbiamo parlare dell'allestimento della nuova collezione estiva. Ci sono anche delle nuove procedure per i negozi in Emilia-Romagna. E come spesso mi accade, mi trovo con una serie di task che devo assegnare alle persone di diversi team che sono sotto la mia responsabilità. Quindi in questo caso a diversi negozi dell'Emilia-Romagna. Come faccio? In Rebel Line abbiamo uno standard, che è questa funzionalità, che si chiama publishing, dove quello che io posso fare è creare una lista di attività con poi delle descrizioni, priorità, scadenze e andare a pubblicarla in base a una gerarchia che viene definita in azienda su quelli che sono i miei negozi di competenza. Quindi vedete, seleziono tutto. Adesso non faccio la pubblicazione perché voglio un attimo rivedere la lista. Però la cosa bella è che una volta pubblicata poi sono i manager dei singoli negozi che possono assegnare le attività alle singole persone che ci lavorano in cassa e in magazzino in base appunto ai loro ruoli. E un'altra cosa comoda che faccio sempre da qui è anche monitorare lo stato delle attività che invece ho già consegnato, ho già pubblicato. Quindi per esempio stiamo lavorando anche sull'inventario della collezione invernale, ormai passata, e io ho una panoramica dei task che sono stati assegnati e anche di quelli che sono stati completati. Non solo, posso avere uno spaccato sui due negozi dove li ho pubblicati e accorgermi se ci sono delle criticità. Per esempio su Bologna, nonostante i task siano stati assegnati, meno della metà sono stati completati. Quindi magari vado a indagare e cerco di capire. Ad esempio il conteggio fisico degli articoli è una cosa molto semplice, chissà perché non è stato completato. Vabbè. E quindi una volta finite le mie attività appunto dopo il meeting, che ricordate ho fatto col mio team, gli ho mandato anche questa lista di attività, mi dedico invece alla creazione del documento che mi aveva chiesto la mia manager Silvia, che è una cosa molto importante, devo farla entro oggi. Ora, io ho sempre avuto un problema nella creazione dei documenti, cioè partire dal foglio bianco. ingranare con la creatività, con l'organizzazione dei contenuti, l'ho sempre trovato un po' dispendioso in termini di tempo, ci metto del tempo. Ma ultimamente sto utilizzando Copilot. E Copilot mi aiuta un po' a sbloccarmi da questa impassa in cui spesso mi trovo. Perché è sì vero che parto da un foglio bianco, ma siccome precedentemente, magari prendo degli appunti o delle note, io chiedo a Copilot di aiutarmi, per esempio andando a creare la presentazione da un file. Il mio file appunti per l'apertura dei nuovi negozi. E quindi adesso aspetto che Copilot mi faccia la sua proposta di organizzazione anche dei contenuti all'interno delle slide. E mentre Copilot lavora, mi segno anche che ho fatto questo task. Ecco qua, sta generando. Per non perdere tempo vi faccio vedere cosa ha generato, insomma, in un futuro prossimo. Una presentazione che ha un ordine del giorno. Come vedete sono state inserite anche delle immagini. E io adesso su questa riesco a lavorare in modo creativo e produttivo, soprattutto velocizzando quello stallo iniziale di cui vi parlavo prima. Adesso vado a fare un altro meeting. Ho un sacco di meeting durante la mia giornata. In questo meeting non vi porto, e meglio così, perché è stato un meeting un po' sottotono. Era un meeting con alcune persone del mio team che però ho sentito un po' distratte e poco motivate. E poi penserò a che cosa posso fare per, insomma, per aiutarle. Tuttavia, quello che faccio di solito dopo i meeting è di mandare un recap di allineamento a tutti quanti, anche perché in quello di oggi la mia collega Barbara non era riuscita a partecipare. Però piuttosto che scrivere una minuta, insomma, stare a prendere appunti durante tutto il meeting, quello che faccio è andare nella schermata di recap del meeting, che ovviamente ho registrato, ho attivato la trascrizione perlomeno, e mi vado qui a copiare le meeting notes. Quindi ancora una volta l'intelligenza artificiale mi aiuta a velocizzare questo task che di solito voglio fare, dove appunto gli highlights di quelli che sono state le tematiche affrontate nel meeting e anche dei follow-up task. Quindi io copio questa cosa e poi la condivido con i partecipanti. si è fatta una certa, si è fatta una certa, nel senso che è ora di pranzo, ormai la mia mattina, ti avete capito, è stata abbastanza impegnativa, è ora di pranzo, mentre aspetto i colleghi che vengono con me nel ristorante aziendale, mi vado a guardare il menu, perché guardarlo quando sono già lì è un gran caos, c'è un sacco di fila, non ci vedo bene, quindi lo faccio comodamente dal mio pc, aprendo quest'app che si chiama Viva Connections. A me piace molto e la uso spesso, perché appena entro io ho già in evidenza i contenuti che per l'azienda sono importanti da farmi conoscere. Quindi per esempio, io seguo molto il tema della diversity inclusion e qui trovo questo articolo, un articolo della intranet con un font fantastico e me lo leggo direttamente da qua dentro, quindi non ho dovuto aprire la intranet da un'altra parte, posso consultarlo qui e poi quando ho finito di leggere torno con un click a Viva Connections, perché in realtà lo scopo per cui ero venuta qui si trova nella parte sotto, questa dashboard, dove ci sono una serie di card, di widget, che mi mostrano delle informazioni e mi permettono di fare cose. e tra l'altro ho scoperto, parlando con i miei colleghi, che ci sono delle card diverse anche in base ai nostri ruoli, perché ovviamente abbiamo delle esigenze informative anche diverse. Qui però vedete che c'è la card con il menu e quindi mi posso consultare il menu e vedere cosa mangiare. Quindi detto ciò, vado in mensa, vado al ristorante aziendale e anche facendo un po' di chiacchiere con i miei colleghi mi è tornato in mente quel tema dello stress, quel clima un po' di disattenzione che ho sentito nella riunione che ho fatto prima con il mio team e mi è venuta anche in mente una riflessione che forse potrei condividere con le persone in generale dell'azienda, perché sapete questo momento di lancio della nuova collezione di allestimento è sempre molto stressante, lo vediamo insomma tutti gli anni. Quindi c'è un messaggio che vorrei condividere non soltanto alle persone di cui sono responsabile ma in modo più ampio e c'è un posto dove posso farlo che è questo spazio che si chiama Viva Engage che è il nostro social network aziendale da non intendersi come uno spazio in cui si vada a perdere tempo perché il Rebel Line noi valorizziamo tanto la possibilità di ascoltarsi, di generare idee, di confrontarsi con tutti i colleghi dell'azienda anche magari in altre sedi e con ruoli diversi. Infatti ci sono all'interno di questa community anche dei gruppi diciamo tematici. Quindi per esempio io vi dicevo seguo molto il tema della diversity inclusion e c'è una community apposita dove appunto le persone poi possono caricare i contenuti per esempio questo video. In realtà come vi dicevo sono entrata qui più per condividere una riflessione e quindi lo faccio dal mio profilo. Però vi dico io sento anche molto diciamo la missione del mio ruolo di manager di leader perché comunque appunto è una mia missione poter costruire un ambiente di lavoro che sia costruttivo e positivo per le persone e quindi per fare questo cerco anche di condividere dei messaggi che siano motivazionali che possano ispirare le persone e quindi insomma durante l'ora di pranzo mi era venuta in mente quest'idea dell'elogio alle lepri che adesso non vi sto a leggere magari ci sarà occasione dopo di farlo e posso aggiungere per esempio una gif perché mi piace avere anche un po' di contenuto visuale e dopodiché la vado a pubblicare sperando che appunto adesso le persone in azienda che leggono il mio contenuto possano sentirsi un po' ispirate e risollevate in questo momento di stress. un'altra cosa che è molto importante in Rebel Line è anche la questione dell'apprendimento perché in azienda si sta cercando di scardinare l'idea che la formazione debba essere relegata a dei momenti isolati ma piuttosto vogliamo valorizzare invece il concetto di una formazione che sia continua e integrata con l'attività lavorativa e quindi per fare questo abbiamo dovuto trovare diciamo un punto centrale riconoscibile dove andare a raccogliere tutti i nostri contenuti formativi aziendali quindi prodotti da noi ma non solo e questo spazio si chiama Viva Learning e vi faccio vedere per esempio io mi ero salvata un corso che volevo seguire questo video che per esempio è prodotto da LinkedIn e lo volevo fare oggi ma sono già abbastanza incasinata quindi piuttosto me lo aggiungerò al calendario e spero di trovarmi uno slot la prossima settimana ok per esempio il 5 qua già mi suggerisce un orario in cui dovrei essere libera e provo a salvarlo così sicuramente se ce l'ho in calendario lo faccio un'altra cosa che ho pensato è che questo corso potrebbe essere interessante anche per la mia collega Maria Rossi e quindi adesso glielo glielo mando che significa che glielo mando che adesso se lo ritrova in una sezione recommended to you come anche io sono stata notificata per esempio dalla mia manager di guardarmi quest'altro video qua e in viva learning vi dico io non sono soltanto una persona che apprende ma sono anche una persona che crea dei contenuti formativi e infatti con pochissimo sforzo e aiuto da parte dell'ufficio di formazione sono riuscita a creare un intero percorso formativo per gli addetti alle vendite che appunto di cui sono responsabile e quindi sono riuscita a strutturare tutta una serie di moduli e anche di contenuti prodotti da noi quindi avevamo tutte le schede dei prodotti per la nuova collezione estiva di nuova introduzione quindi immaginate gli addetti nei negozi dovevano assolutamente studiare le nuove caratteristiche per poter poi consigliare e aiutare i clienti allora cosa ho fatto ho preparato una presentazione powerpoint dopodiché l'ho caricata in un sito sharepoint quindi ho fatto un drag and drop valorizzato alcuni metadata quindi una descrizione un titolo la durata ed ecco che poi compaiono all'interno del corso poi ci ho aggiunto anche un video perché mi sembrava importante anche dare l'idea di come il marketing racconti questi prodotti e quindi diciamo che in tempo zero sono riuscita a metterli a disposizione appunto degli addetti alle vendite e a questo punto la mia giornata non è finita assolutamente ho già visto che mi sono arrivate delle altre mail messaggi devo fare un sacco di cose però vi lascio a Louise che anche lei ha tutta una giornata da raccontarci allora io sono Louise buonasera sono addetta alle vendite di Rebel Line al negozio di Bologna sono una persona curiosa precisa un po' caprensiva ho degli hobby comuni piace camminare andare a mostre bere birra per quanto riguarda colori canzoni e libri probabilmente ho dei gusti un po' opinabili però insomma sono disponibile poi alla birra che ci aspetta dopo a dare approfondimenti a chi potesse essere curioso su queste tematiche la mia giornata è una giornata semplice in questo caso la giornata che vi racconto inizia la sera prima quando finisce la giornata di lavoro di Telma inizia la mia al mattino vado al lavoro con i mezzi pubblici appena arrivo ho bisogno di aiutare un collega passo molto tempo della mia giornata in negozio a servire i clienti però ho tempo di controllare le mail fare una serie di task che mi sono stati assegnati e anch'io ritagliarmi un piccolo spazio per imparare perché in Rebelline già quando sono stata assunta mi è stato detto che la formazione continua non è assolutamente secondario ma fa parte proprio del nostro percorso del nostro essere in azienda a questo punto la mia giornata come vi dicevo inizia la sera prima perché sto per andare a letto ho il cellulare in mano e mi rendo conto di non ricordare esattamente qual è il turno del mio giorno successivo apro Teams e qui all'interno trovo una dashboard con un sacco di card proprio anche personalizzati per noi addetti alle vendite faccio sempre fatica a trovare dov'è l'app per gestire i turni quindi per una buona volta vado me li riordino all'interno della dashboard in modo tale che questi che per me sono i più importanti i turni e il menù della mensa siano in primo piano vedo quindi qual è il turno di domani mattino che è tutto chiaro era più o meno quello che mi ricordavo però ecco già che ci sono voglio chiedere un cambio del mio turno per lunedì prossimo perché non ho voglia di stare in cassa e magari trovo qualcuno che lavori in magazzino o disponibile a fare un cambio con me quindi vado a selezionare quello che è il mio turno di lunedì 3 giugno vediamo un po' chi è disponibile sempre il 3 giugno con un turno in essere è disponibile a cambiarlo con me vedo insomma che ci sono Carlotta ed Elisabetta che sono in magazzino lo chiedo a Carlotta speriamo che mi risponde in modo tale che poi possiamo fare questo scambio e io stare un po' in magazzino un po' meno a contatto di lunedì con i clienti in negozio vado a letto mi sveglio mi vesto faccio colazione e vado a prendere l'autobus sono sull'autobus e mi rendo conto che è un po' in ritardo c'è un po' di traffico quindi quello che faccio è di aprire quella che è la chat di gruppo del negozio e segnalare questa cosa è un po' una novità per noi utilizzare la chat all'interno di team perché fino a poco tempo fa utilizzavamo whatsapp ma poi Giovanni e Celeste hanno creato anche questa chat di gruppo e ci è venuto un po' naturali a tutti spostarci su questa chat perché comunque è integrata in mezzo a tutte le altre cose che ci servono dalla gestione dei turni il menù della mensa e altre cose che poi magari vedrete nel corso della mia giornata sono sul bus devo far passare del tempo e quindi ho cellulare aperto Teams aperto mi viene voglia di leggere un po' di notizie delle ultime cose che succedono in Rebelline quindi quello che faccio è di aprire Viva Engage cerco di leggere le ultime novità bellissimo Maria ha pubblicato che ci possiamo incontrare tutte le sere ogni martedì giovedì noi di Bologna alle 18.30 per correre insieme questa cosa mi piace un sacco sicuramente parteciperò però Maria ha scritto anche all'interno della community dell'innovazione e questa cosa a me rende veramente orgogliosa perché dentro a Viva Engage ci sono sia community legate al tempo libero ma anche community importanti dove partecipano i manager come sui temi dell'innovazione e anche noi alle dette alle vendite possiamo partecipare di la nostra opinione partecipare quindi insieme a tutti gli altri anche io sono appassionata dei temi di diversity e di inclusion e questo video lo inizio a guardare poi magari me lo guarderò con un po' più comodo successivamente ora però sono curiosa di andare a vedere all'interno del leadership corner se c'è qualcosa di nuovo che hanno scritto i miei leader ed effettivamente Thelma ha pubblicato poco tempo fa l'elogio alle lepri è un posto veramente interessante che racconta com'è importante per ciascuno di noi avere sempre un punto di riferimento o qualcuno che corre leggermente più veloci di noi e che ci sia da stimolo e in questo periodo di allestimento della collezione estiva dove lavoriamo tutti veramente duro è di ispirazione leggere questa cosa io Thelma non la conosco però la ringrazio magari ci conosceremo prima o poi e qualche avventura la passeremo pure insieme a questo punto io sono arrivata al lavoro incontro Francesco che è un nuovo collega arrivato solamente da una settimana e mi chiede alcune cose legate alle giornate di ferie a quanto ci viene pagato lo stipendio io non ho memoria diciamo di queste cose però so esattamente dove andarle a cercare ancora una volta apro Teams e entro dentro alla nostra intranet so esattamente dove si trova l'informazione perché è fatta veramente da Dio questa intranet cioè organizzata bene c'è tutto dentro e all'interno dell'employ hub ricordo ecco infatti ricordo bene c'è una sezione che contiene queste informazioni mi ricordo delle FAQ molto sintetiche molto ben scritte leggibili rapidamente eccole sono qui quante sono le ferie quando ci viene pagato lo stipendio chissà quando lo riedo Francesco adesso copio il link e lo mando via chat così quando anche lui ha tempo segue il link e poi ci sarà modo di fargli vedere all'interno della intranet quali informazioni può trovare e gli do due dritte io che sono una fan di questa di questa intranet passo poi il resto della mia mattina in corsia a seguire i vari clienti e intorno alle 12 riprendo in mano il cellulare è il mio device di lavoro sostanzialmente e controllo la mail ho due mail nuove una scritta dal responsabile della comunicazione interna una nuova un post diciamo un nuovo messaggio che riguarda l'importanza della diversity ed inclusion non lo dovrei sapere però vi faccio notare che questo è esattamente il contenuto letto da Telma all'interno della intranet con lo stesso layout con le stesse grafiche e questo perché? perché mi hanno detto che la comunicazione interna ha un nuovo strumento a propria disposizione che gli consente di diversificare per canali di pubblicazioni gli stessi messaggi quindi li sta pubblicando in parte sulla intranet a noi è detta le vendite ce li mandano via mail perché per noi è più facile diciamo leggere la mail con più frequenza per quanto io anche sfrutti volentieri il tempo in autobus per accedere anche alla intranet ed altri spazi che abbiamo a disposizione però mi sembrava di aver visto un'altra mail ah sì è la mail dell'architetto Maccori che ci deve fare la ristrutturazione dei camerini che mi sta chiedendo di mandare le foto e le pinimetrie che abbiamo visto settimana scorsa a questo punto però per me è molto più facile passare al computer vado al computer del negozio e apro dal di qui la posta elettronica quindi ritrovo la mail dell'architetto Maccori e quello che faccio ovviamente è rispondergli dire eccoli e mi hanno spiegato diciamo sin dai primi giorni di lavoro quelli che sono gli standard di Rebelline gli standard di Rebelline sono quelli diciamo di condividere i nostri documenti il nostro materiale utilizzando questa modalità quindi abbiamo tutti i negozi in questo caso uno spazio di lavoro dove salviamo il nostro materiale qui sono le foto e le planimetrie e vado a condividere il link quindi anche dove lavoravo prima questa cosa non ci hanno dato delle regole precise e quindi c'era chi usava Dropbox c'era chi usava WeTransfer e scarica il file e vallo a caricare nella piattaforma ma il link scade non scade l'ha ricevuto non l'ha ricevuto qua è tutto estremamente più semplice io non devo far altro che inviare questa mail di default viene autorizzato in lettura il destinatario della mail e questo link dopo 30 giorni mi hanno detto che scade non vale più e io faccio un send e questa mail posso mandarla tranquillamente già che sono al pc quello che voglio fare adesso è andare a vedere all'interno dei task del mio negozio del negozio di Bologna se c'è qualcosa che devo che devo fare che mi è stato assegnato dal mio responsabile di negozio che a sua volta ha ricevuto questi task dal direttore operation qua vedo anche di avere un task scaduto il conteggio fisico degli articoli in magazzino in realtà l'ho già fatto ieri mi sono dimenticato di segnarlo come completato spero che questo non abbia causato dei guai la cosa che invece voglio fare oggi sono quelle assegnate alla giornata di oggi quindi oggi devo fare due cose sostanzialmente oltre al mio lavoro normale studiare le caratteristiche dei prodotti di nuova introduzione quindi la collezione estiva prevede dei nuovi prodotti e vabbè inserire dei dati nell'inventario questo lo voglio fare dopo perché mi piace tanto studiare le cose nuove e vado dentro quindi all'academy dei nuovi addetti alle vendite e vediamo se trovo qualcosa a proposito ma non ho dubbio che ci sia eccolo non ho dubbio che ci sia perché trovo molto efficace il Rebelline questo fatto che ci mettono a disposizione dei contenuti di informazione di formazione fatti anche in maniera molto semplice in questo caso un powerpoint ma questo fa sì che abbiamo a disposizione all'interno della nostra academy in maniera estremamente veloce tutte le informazioni che dobbiamo studiare imparare dalle procedure dai prodotti che dobbiamo gestire tutti i giorni quindi non dobbiamo aspettare per la maggior parte dei contenuti qualcuno che pubblichi un corso fatto ad hoc video ma in maniera molto semplice e rapida io trovo sempre qui le informazioni quasi contestualmente ai task che mi vengono assegnati e così la mia giornata passa va avanti all'interno del negozio non so se me ne siete accorti ma ho utilizzato sia io che Telma almeno 12 13 elementi di quella tavola periodica che abbiamo visto inizialmente poteva essere più ricca la nostra giornata probabilmente nella vita reale lo è però lo abbiamo fatto nel contesto di un'azienda Rebel Line che ci ha disegnato ci ha consentito con dei percorsi di adozione o comunque degli diciamo analisi progettazioni fatte bene basate sulle nostre persone o le personas che rappresentiamo e per noi è stata un'esperienza quotidiana assolutamente fluida e soddisfacente detto questo prima di salutarci quello che vogliamo dirvi è che se questo fosse stato un film per Telma e Louise probabilmente un altro finale sarebbe stato possibile per l'anima per l'anima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualche scherzi, qualche domanda, qualche curiosità, un punto di vista diverso, ve l'avevamo detto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.